Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo in compagnia di Marco al capitolo decimo al versetto 32. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme Gesù camminava davanti a loro ed essi erano scomenti, coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici si mise a dir loro quello che stava per accadergli. Ecco noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e gli iscrivi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo faggeleranno, lo uccideranno e dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli maestro vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. C'è una bella presunzione no? In questi due. Gesù fa appena il suo terzo, è la terza volta che ritorna su questa cosa che a Gerusalemme mostrerà una regalità che sarà sconfitta. Ecco e loro prendono come dire i loro desideri e la lampada di Aladino diciamo così e si rivolgono così a Gesù. Che cosa volete che io faccia per voi? Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno la tua sinistra e quindi sono interessati a un posto. Chi segue Cristo non può essere interessato a un posto, semplicemente a un posto di prestigio, diciamo così. Perché? Perché? Perché Cristo mostra altro, annuncia altro e anzi smonta tutto l'ambaradan diciamo così religioso come una caccia ai primi posti ecco. Ma piuttosto il contrario una caccia agli ultimi posti. Sentiamo come va avanti. Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo? Essere battezzati nel battesimo in cui sono battezzato? Si riferisce ancora alla morte e risurrezione. Lo possiamo. Gesù disse loro il calice che io bevo anche voi lo berrete. Nel battesimo in cui io sono stato battezzato anche voi sarete battezzati nello Spirito Santo. Ma non adesso intanto. Ma sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo e per coloro per i quali è stato preparato. E poi per farsi capire e spiegare ancora una volta e ancora una volta gli altri dieci avendo sentito cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Si indignano ma insomma si indignano perché perché non hanno detto niente ma loro pensano la stessa cosa che gli altri hanno detto ecco. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse i loro capi li opprimano. E il mondo non è cambiato no? Il mondo è una lotta tra coloro che vogliono dominare sugli altri. Tra voi però non è così. Tra voi però non è così. Ogni volta che vediamo sulla nostra pelle e nei nostri desideri, nei nostri ospici qualcosa che ha a che fare col potere, col dominare sugli altri, dobbiamo ricordarci assolutamente, aiutarci a ricordarcelo. Tra voi non è così. Tra voi non è così. Altrimenti siete discepoli di qualcun altro ma non di Gesù. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Insomma la posizione di Gesù è molto molto chiara anche se, lo sappiamo, noi infatichiamo a ruminare sta cosa ecco. E vigiliamo sul non accorgerci solo quando accade che noi lo vediamo negli altri. No, no, no. Accade in tutti questa cosa qua. Perché in tutti c'è questa lotta tra l'essere dominatori e l'essere servitori. Tra l'essere un po' più su degli altri e invece un po' più giù a chinati a lavare i piedi. E riproviamoci, riproviamoci anche oggi. Ecco, le cose belle della giornata di ieri. Beh, ieri abbiamo concluso il terzo giorno dell'iscrizione alle sette ragazzi, quindi tutti i pensieri vanno un po' a questa esperienza. E poi il rosario con i bambini che anche ieri sera ha portato una bella e semplice testimonianza, in questo caso di accoglienza. E poi è ancora una volta un altro incontro personale come una persona. E mentre ascoltavo e un pochino parlavo, ringraziavo, perché è sempre bello ascoltarsi, fermarsi un attimino, anche se magari il campanello suona un sacco di volte, ma fermarsi, fermarsi, fermarsi. Prima dei programmi ci sono le persone. Ale, buona giornata a tutti voi.